Siamo nel mausoleo di Augusto, continuano le visite, ho avuto modo di accompagnare i primi gruppi di visitatori. Le visite saranno gratuite per tutto il 2021 per i romani, altrimenti gratuite fino al 21 aprile Natale di Roma per tutti quanti. Le visite durano circa 50 minuti, chiaramente su prenotazione in piccoli gruppi e si potrà visitare questo monumento eccezionale che è stato chiuso per tantissimi anni e che finalmente ricomincia a essere restituito all'umanità. Devo dire che entrare in un'area di cantiere è comunque emozionante. Allo stesso tempo si potrà vedere come prosegue lo scavo nella piazza Augusto Imperatore che tra qualche anno sarà completamente pronta e restituirà anche un'immagine diversa a questo vero e proprio sito archeologico per troppo tempo dimenticato.